e siamo su gta online cazzo gio time fa pure rima raga fa vedete il mio nuovo vestitino e raga direi di andare a massacrare un po di gente andiamo a sagrare soprattutto se mi pare uno della mia crew nella sessione ai franzi una della crew ed è anche un mio amico ai franzi non pensate che francese e italiano sarebbe aria francese allora è questo che è in pausa speriamo che non è della sua casa perchè non ho in casa peccato se no ragazzi volevo fare il devasto totale ok ragazzi diriciamoci da un paio di persone se siamo partiti e 33 48 dovremmo finire il nostro video 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 via di qua direi di che non trovo un cavolo di nessuno c'è dove cavolo sono tutti però dove si sono venuti tutti qui perché tra l'altro che sono tutti i miei amici non li vado a sparare ma noi che cazzo ha fatto a non voglio questo cioè cosa ha aperto non credo che non lo sarei più esistito però le regole di gta sono le regole di gta online adesso direi ragazzi di sparare un paio di persone riusciano un po tutti di massacrare tutti di botte cominciamo con ai franzi e lo buttiamo anche sotto non è morto vediamo benissimo ragazzi noi prendiamo il nostro fucile avanzato ultramodificato vediamo chi usa la corrupa blindata bene abbiamo anche noi che cazzo vuoi non ti manco vedo tu mi uccidi benissimo direi di usare allora il fucile a pompa e benissimo raga benissimo forza dove siete vedete eh dove siete tutti vedete che mi massacrare di botte vedete dove sono tutti dammi l'auto solo sul verde e per non farmi mettere la taglia ci uccido un uro via via adesso basta chiamiamo sto stronzetto e pam usciamo dall'auto e ne abbiamo ucciso uno ne abbiamo ucciso uno però raga con la corroma blindata se dice alla corroma blindata qui non concludiamo niente quindi direi di chiamare qualcosina giusto qualcosa un attimo eh mmi we expect the unexpected e ciò è una bellissima corroma blindata facciamo corroma contro la corroma solamente che la mia c'è qualche cosettina in più è stramodificata di merda la macchina più modificata di tutto mi piace la minaccia veloce via via portami l'auto portami l'auto portami l'auto portami l'auto eccola qui eccolo qui eccolo qui ci siamo ci 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 siamo tra l'altro ragazzi riuscitevi di dirvi voletevi alla nostra crew questo è il segno della nostra crew si chiama esercito italiano xx il capo si chiama orsamo e franco il suo primo 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 no vediamo che adesso la tengo pure la corroma blindata non è che adesso la trama e ho chiamare anche cazzo vederli vuol dire bello muori buona poi cazzo vederli mi sta prendendo vieni 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 come cavolo ha fatto what the fuck ho già fatto spawnare anche qua fuori vai veloce veloce non lo voglio portare a salvo 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 quindi continuiamo a distruggere qui speriamo che non si prenda la mia auto a parte che è anche un'auto che nessuno può avere accesso tra l'altro solo l'ho raggiunta usciamo da qui ragazzi non voglio l'auto di salmone non vi preoccupate sali sali ok nemmeno posso trovare qualcuno non li fermo non li fermo che non so che cavolo sto facendo beh tu pensi che c'è la con una brillante non ti uccido no no invece è la voglia che ti uccidiamo oh via dai assagriamolo vediamo che non ce la facciamo vieni qui vieni qui bello vieni qui bello vieni qui dove cavolo corri eh dove corri dove te le vai che c'è scappi eh di chi è che sta trovando una buildata quanti cavolo c'hanno le gurume la mia è la prima di tirare tutte perchè io ho i big money guardate quanti soldi ho più di 400.000 c'ho il meteo pronto allora se io ci sono ad attaccare no non tengo le bombe adesive peccato insomma tu credi che ti metti tutto il coltello non ti riesca ad uccidere beh tu li vedi scurati tu no ti riesco a vedere bello mio no che cavolo di arma usa no ma è possibile dai non ci credo cioè io sono di ah bene ho capito che arma usa in pratica raga ci sono delle armi che si possono comprare e con quelle armi se ti colpiscono raga sei fottuto cioè ti ti passa che era quell'arma non puoi fare niente una volta che ti ha colpito perchè quello dei proiettili ti uccide cioè questo c'è 5 6 euro solo per un'arma di merda pure di merda anzi è potentissima e ho capito e ho capito che mi piace una taglia che cazzo ehi 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 lascia stare ai franz che cavolo fai lascia stare ai franz sali ai franz sali sali ai franz ah si non puoi salire bene muori dai forse vedi qui tu eh ma giri bello se non la guarda fra lui allora dove te ne scappi bello mio eh le giri le franz sali sono uscito non ci credo oh ok c'è l'altra bomba no eh si sono giocati solo con le bombe ragazzi solo con le bombe dai non ci credo il passivo si è messo sto strunzi in passivo bambolvi fai schifo di merda fai schifo ah raga tra l'altro tra l'altro tra un ragazzo si dice voglio salutare un mio carissimo amico di classe si chiama bambolvi muori si chiama Nicola Nicola è un mio carissimo amico poi saluto anche a tutta la mia classe dato che questo qui è l'ultimo oggi è stato l'ultimo giorno di scuola non ci vedremo per moltissimo tempo quindi saluto tutti quelli che mi seguono e ragazzi da questo video per il giro 2002 direi tutto e ci vediamo al prossimo video lasciate un bellissimo like fatemi vedere il vostro supporto iscrivendovi e lasciate se volete anche un commento condividete raga fate alzare la adrenalina così se fate vedere il vostro supporto aumenterò video tutto tutto e quindi da Pepe Gio2002 è tutto per questo video al prossimo video video